Avete una domanda o vado a piacere? Matteo Renzi ha parlato ai cronisti della delicata situazione parlamentare che si è venuta a creare ieri al Senato con l'elezione a sorpresa dagli Ignazio Larussa di FD Perché dicono tutti che siete stati voi? Ha chiesto una giornalista. E il leader d'Italia Viva ha risposto, ma siete stati voi a fare cosa? Ieri è accaduta una cosa enorme, la maggioranza di governo si è divisa prima di iniziare, questa è la notizia Poi Renzi ha smentito le voci secondo cui i franchi tiratori che hanno permesso l'elezione di Larussa si hanno da individuare all'interno del terzo polo, quelli che dicono che i 18 voti in più ottenuti dalla russa, rispetto alla base da cui partiva, vengono da noi Non hanno capito due cose, la prima è la matematica, perché noi siamo al massimo nove e non è che abbiamo fotocopiato le schede dentro, la seconda è la politica Io quando faccio queste cose le rivendico, chiedetelo a Conte se io queste cose non le faccio a viso aperto Penso che in un momento in cui c'è l'inflazione in questi condizioni, il costo dell'energia e questa situazione internazionale, il governo dovrebbe partire subito, ha detto ancora Renzi che poi ha rivelato di aver scambiato qualche battuta con Larussa ieri a Palazzo Madama L'ho visto ieri, l'ho salutato e gli ho detto di votare Renzi quando sono entrato, però non non mi ha ascoltato inspiegabilmente